Comunque non avete scritto il titolo, quindi il video... Ah, ma è andato dritto in curva in bici? Che roba... che roba... che roba strana Comunque io... Che figo che sta roba delle bici sta prendendo sempre più piede però Ho idea che tra tre anni... ciao vita proprio Sì, sembra proprio una cosa che sta sicuramente crescendo Raga, San Vigilio, cioè questa qua Se... se... Ah, era questo? Ah, era questo, è lungo raga Ma raga, pensavo fosse successo qualcosa Cioè, meno male che non è successo niente Che figata però, zio Sai che mi fa venire... Ma come sei la smanata? Mi fa venire la pelle d'oca così, eh Zio, che tu stai salendo in impennata e mi ti ricambia pure Stragasato, è bellissimo Cioè, se ci penso è bellissimo Infatti quando beccano gente che non mi saluta, li rincorrono Sì, esatto No, ma... era quello lì il lungo, raga? Tu stai guardando la chat, cosa dicono? Era quello il lungo, ragazzi? Cioè, nel senso, è un bel lungo, eh Oh, si sta abbonando un bel po' di gente, grazie, raga Bella, raga Tra poco vi ringraziamo e vi spieghiamo anche perché ha senso abbonarsi Ma lui ha solo il freno dietro? Sì Ok Ok Ma hai il wifi di casa tua? Mi fa stranissimo, Zio, vedere l'impugnatura così a sinistra Cioè, è proprio attaccato in questo modo e mi fa... Eh, mica la sua memoria, la password Mi fa... Non me la fai spammare con l'iPhone? Mi fa strano, sì, te la scrivo Grazie a tutti